La città metropolitana di Torino ha creato un progetto che si chiama Innometro. Questo progetto è fatto per le micro imprese, per accompagnarle in tutti i processi innovativi e di ricerca e sviluppo per la loro imprenditoria. Questo lo facciamo attraverso un finanziamento a tasso zero e soprattutto attraverso un contributo a fondo perduto nella misura del 50 per cento fino a un testo massimo di 25 mila euro. Approfittate di questa occasione. È la situazione attuale che ce lo chiede, ma sarà soprattutto il futuro della micro imprenditoria su tutto il territorio della città metropolitana di Torino.